Nonna Fiorinda compirà 102 anni il prossimo giugno ed è la prima vaccinata in una RSA spezzina. Stamani ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus, tra gli applausi degli operatori dell'ASL 5 e della casa di riposo Sacro Cuore di Brugnato. Fiorinda Ghiglione è nata all'epoca dell'influenza spagnola, è stata sfollata con i bimbi piccoli durante la Seconda Guerra Mondiale e ha affrontato in isolamento nella RSA la pandemia Covid, senza mai perdere il suo sorriso. La RSA Sacro Cuore è stata la prima struttura di questo tipo alla spezia nella quale sono stati effettuati i vaccini agli ospiti e a buona parte degli operatori. Oltre un centinaio i vaccini somministrati questa mattina, mentre a pochi metri continuavano gli incontri nella stanza degli abbracci. La speranza è quella di non averne più bisogno al più presto, per tornare agli abbracci veri. Le vaccinazioni proseguiranno nella RSA nei prossimi giorni, quando toccherà anche agli ospiti e al personale del Centro Sociosanitario Campo del Vescovo a Rocchettavara.